E' stata inaugurata questa mattina a San Salvo la nuova sede di Adrilog, la cooperativa di logistica integrata nata in Abruzzo e pronta a servire l'intero territorio nazionale. Al taglio del nastro non poteva mancare il presidente Luca Mazzali che ha illustrato a tutti i presenti la storia e la prospettiva della società che dal 2014 ha fatto registrare un incremento di fatturato dell'82%. Abbiamo inaugurato oggi la nostra sede, Adrilog è una cooperativa che ha 5 anni di vita e in questi 5 anni abbiamo avuto la forza di ottenere risultati importanti che ci hanno portato oggi ad inaugurare questa sede che è il punto nevralgico della nostra organizzazione. Sicuramente questo per noi non è un traguardo ma soltanto una tappa di un percorso che deve portarci ad essere ancora di più una realtà importante sul nostro territorio. Oggi Adrilog, nell'ambito dei servizi logistici, è la più grande realtà abruzzese con oltre 750 addetti e oltre 50 milioni di fatturato e ambiamo ad esserlo per tutto il centro-sud Italia. Tra i presenti, oltre al sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca e i rappresentanti della regione Abruzzo, anche il presidente nazionale di Lega Cop, Mauro Lusetti. Un giorno molto importante per San Salvo, per l'Abruzzo e per il momento cooperativo aderente a Lega Cop. Adrilog è una realtà molto giovane, nata 4 anni fa, che con solide sviluppa in maniera vertiginosa il proprio volume d'affari e oggi inaugura la propria sede operativa. Adrilog è una realtà della logistica d'eccellenza di Lega Cop che attraverso le sue capacità e la sua attenzione all'innovazione è riuscita a conquistarsi un ruolo nella logistica basandosi proprio sull'innovazione e non, come succede spesso in questo settore, riducendo i diritti delle persone. Grazie a tutti.